Ciao a tutti, oggi postazione un po' inconsueta, un po' strana, ma mi sta comoda per il video che voglio fare, perché oggi voglio fare il mio primo video, svuota la spesa, vi voglio far vedere tutta la spesa, intanto prendo le forbici, la spesa online che ho fatto ieri mattina e che mi è arrivata oggi, quindi io adoro il mio negozio online preferito, dove trovo di tutto, che è Macro Librarsi, ma ormai ve l'ho nominato veramente tantissime volte. Ho tre pacchi, piccolo, medio e grande, quindi io direi di iniziare subito, iniziamo da questo piccolo, perché poi questa spesa è veramente molto molto varia, ho fatto un bellissimo rifornimento e ho preso anche prodotti non solo alimentari, ma anche di utile, comunque per la cura del corpo, perché voglio provare qualcosa di nuovo e voglio provare qualcosa di più naturale. Questo negozio impacchetta le cose in modo fantastico, non solo sono velocissimi, ma sono anche molto molto precisi, tant'è che separano sempre i liquidi dalle cose che magari si mangiano, o se comprate appunto prodotti tipo cose comunque creme, shampoo, per capirsi, insomma detersivi, ve li separano comunque in pacchetti a parte rispetto al cibo, cioè sono veramente, magari fanno una scatola per un solo prodotto, però li separano, sono veramente molto molto attenti. Io adesso spacchetto tutto con voi, poi dopo con calma controllerò in base alle email del cellulare, che ci sia tutto, ma non dubito che ci sia tutto, perché non mi hanno veramente mai mai debita. Allora, lo primo pacchettino piccolo contiene i prodotti per la skin care. Controlliamo che non ci sia nient'altro. Allora, intanto qui abbiamo anche l'elenco dei prodotti, qui abbiamo i loro cataloghi, due addirittura, perché uno non bastava, ok, bene di questo lo possiamo archiviare. Allora, questi i primi tre prodotti che ho preso, cioè guardate, io ho preso lo struccante di Fasico e me l'hanno anche sigillato con lo scotch. ve l'ho detto, so perfetti, so fantastici e mi piace quindi di fargli la pubblicità, perché veramente se la meritano. Allora, ho preso lo struccante di Fasico di Biofficina Toscana, che so essere una marca buona, ne sento parlare sui video di YouTube, e ho preso lo struccante di Fasico ai frutti rossi, mi attirava questo fatto che fosse ai frutti rossi, e quindi è per viso e per occhi. Siccome quello per il viso io l'ho quasi finito, quindi ho voluto provare qualcosa di nuovo. Adesso lo voglio aprire, provare a sentire se profuma. Profuma, profuma è di fragoline, buonissimo, ha un profumo anche un po' acidulo, buonissimo. Non ho mai avuto uno struccante che profumasse così, quindi già mi piace. Poi ho preso Base Coat, una base di smalto, quindi per le unghie, credo indurente, speriamo, qua, non lo so. Comunque come marca è Colère Caramel, quindi ho voluto prendere anche questo. E una crema per le mani. La crema per le mani che ho scelto è di Alchemilla, perché anche questa, di questa marca appunto ne sento parlare molto, quindi sono curiosa. E questa è la crema per le mani, elisir di bellezza per le mani, vediamo se c'è scritto cos'è, estratti di aloe, avena, camellia, malva e altaia. Nutre la pelle rendendola morbida, idratata, litigata, proteggendola da aggressioni e condizioni climatiche avverse. Non lo so, non l'ho mai provato, ma questa marca quindi vedremo un po'. La volevo dire ma è tutta super super sigillata, quindi niente. Tanto comparirà poi nei prodotti finiti perché io le creme per le mani le mangio più dei biscotti e sapete che io ho la fissa, la mania per i biscotti. Poi apriamo il pacchettino medio. Vediamo che cosa c'è qua dentro. Carta, carta, carta. Allora, ho preso due confezioni di pasta di mais. Io adoro la pasta di mais, però questo ho sbagliato perché questa è per la minestra. Ma non fa niente, io la mangio anche come pasta normale. E poi ho preso le conchigliette. Allora, io adoro la pasta di mais. Questa marca è Viva Mais, mais italiano. Ma non è per il fatto dell'utine, è per un fatto anche visivo, in quanto io non potendo mangiare pomodoro mi trovo sempre comunque ad avere quella pasta bianca nel piatto. Sì, posso metterci le verdure, posso metterci il pesce, a volte comunque ci metto anche la curcuma. Però comunque, quando non uso, magari vado di corsa, faccio una cosa veloce con qualche verdura, quella pasta bianca è davvero triste. Questa invece è gialla, è carina e mi piace, mi piace tanto. Mi piace anche la sensazione in bocca che mi lascia. Non lo so, è comunque diversa dalla pasta di grano e quindi ho preso anche questa, perché l'avevo finita. Solo che, ma da me non fa niente, perché praticamente questa io la uso stesso, tipo riso, insomma, quelle cose in pochi. Non fa niente anche se è piccola. Poi ho fatto rifornimento di semi di kia, perché io questi li uso tantissimo e li aggiungo nei piatti sia così naturali, magari una spolveratina sopra, oppure ci faccio il padding. Se mi guardate su, seguite su Instagram, avrete visto tutti i miei smoothie, tra cui appunto quelli anche con il padding di kia, e questi sono 200 grammi di sapore di sole, come marca, e praticamente niente, sono molto ricchi di fibre e a me comunque piacciono, perché so che fanno bene. Alla fine non è che hanno questo grande sapore, però tipo ci fai un padding con il latte, lo colore con qualche superfood, diventa insomma tutto più carino. Poi ho fatto rifornimento anche di semi di sesamo. Io adoro il sesamo. Lo mangio sia così naturale, o anche un po' tostato, comunque aggiunto nei piatti, magari mentre si cuociono, e non lo so, a me piace, mi piace questo gusto perché è un po' amarognolo, mi piace. Questo è della marca Rapunze. Comunque niente, credo che vengano da... dall'Egitto addirittura questo viene. Però la... cioè, questo è dell'Egitto, però il prodotto, insomma, è fatto in Germania. Va bene. Se non sbaglio, questo Rapunzel, questa marca Rapunzel, fa anche degli snack crudi o comunque di futta secca, semini, buonissimi. Poi ho preso il latte di nocciole. Io adoro il latte di nocciole, mi piace tantissimo perché mi piace proprio la sensazione che mi lascia in bocca. E questa è della Prova Mel. Avevo già provato questa marca, sia con la bevanda al cioccolato che con la bevanda di soia, però insomma, vabbè, ho voluto prendere anche questo, per fare appunto sempre un po' gli smoothie, comunque perché sempre bere appunto latte, latte normale, alla fine mi stanca e quindi comunque qui non c'è niente perché c'è acqua, nocciole, sciroppo d'agave e sale marino. Ottimo, rinfrescante soprattutto perché non ha zuccheri aggiunti, se non l'agave, ma insomma. Qui ho tutto il resto della mia fattura e della mia spesa perché ho preso davvero tantissime cose. Mettiamo lì sempre per controllare tutto e poi ho fatto un ripornimento di piadine, io adoro le piadine, le mangio praticamente quasi sempre a franzo perché vado di corsa, ci aggiungo magari un po' di yogurt, un po' di superfood e vado, insomma, le cuocio in forno e queste sono ottime perché non hanno i grassi, quindi sono tutte bio, senza lieviti, senza conservanti, solo con l'olio d'oliva. Insomma, ho preso questa, ha la spirulina e questa la marca sotto le stelle fa anche dei biscotti molto molto buoni, quindi ho preso questa la spirulina, questa con orzo e quinoa e questa si chiama Sapore di Sole, la marca, poi ho preso questa, sempre sotto le stelle, con la quinoa, che anche questa appunto fa benissimo e quindi niente, apriamo il pacco grande. Io praticamente ce l'ho dovuta andare oggi al lavoro in macchina, iniziato vado a piedi perché sarevo che sarebbe arrivato il forriere e queste cose ovviamente a piedi non le avrei potute trasportare, ovviamente. Ah che cazienza! Allora, il pacco grande è grande ed è pieno, ma io già so che c'è dentro. Allora, togliamo innanzitutto il po' di carta. Sono tornati i miei mitici biscotti delle Moulin du Piver. Li compro raramente perché costano un botto e sono pochissimi, cioè tipo questi sono 12 biscotti, però ogni tanto li mangio e questi sono buonissimi. Questi sono della linea Equilibre con cereali e grano e anche se non hanno chissà cosa, cereali e grano, quindi non c'è cioccolato, non c'è nulla, so comunque, non lo so, ti lasciano in bocca proprio quella sensazione del biscotto burroso che ti dà proprio soddisfazione, però in realtà non c'è burro, non ci sono grassi e quindi li mangi veramente con piacere. Poi ho voluto riprendere questi rustici con il cocco, che mi sono piaciuti tantissimo perché somigliano in un modo incredibile ai canestrelli, ma non hanno proprio nulla del canestrello, però il sapore è quello e quindi l'ho voluto riprendere perché li avevo già riprovati e qui sono della marca Bios, senza schifezze. Poi ho voluto prendere il tè Masha, tè verde biologico Masha, non per fare il tè, cioè sì, ci farò anche il tè, perché io comunque sono patita di tè e mi lascio tanto, ma più che altro perché lo voglio utilizzare come... e infatti... no, perché praticamente io lo voglio utilizzare, stavo leggendo, come colorante naturale, tipo i miei superfood di Unicorn Superfoods, lo voglio utilizzare appunto come colorante per lo yogurt, per la banana frullata, per il latte, perché dovrebbe rendere tutto molto molto più verde. Se poi non dovesse funzionare lo utilizzerò come tè e comunque poi mi incuriosiva perché vedo questo tè Masha un po' ovunque, su Instagram, così e quindi mi attirava. E questo è della marca Touch Organic. Ok? Poi ho preso un piccolino, un altro latte, insomma, una bevanda alla soia e alla vaniglia. Questa proprio è un buono uso. Vabbè, buona, lo stesso. Metterò già tutte queste bevande in frigo perché io adoro le cose fresche. Qui ci sono acqua, fagioli di soia, zucchero di canna grezzo, estratto di vaniglia e sale marino, quindi altra bevanda sempre della prova Mel. Poi ho preso l'orzo, caffè d'orzo. Io ho la moca, quella del caffè d'orzo e ogni tanto mi piace al posto del tè bere il caffè d'orzo senza zucchero, senza niente perché soprattutto se ho sede mi disseta. Non lo so, il caffè d'orzo caldo, un po' amarogno, mi disseta tantissimo e ho voluto provare questo, non l'avevo provato ancora e questo è il caffè salomoni. Comunque è l'orzo per la moca e quindi questo è di mezzo chilo, quindi per un pochino mi basta, ma io comunque veramente uso queste cose tantissimo e mi finiscono in fretta perché non riesco a bere l'acqua normale. Le mule anti-upiver, altri biscottini, questo sempre equilibrio e questo ha le gocce di cioccolato e sono sempre 12 che praticamente quindi finiscono in un giorno quasi. Poi, le mule anti-upiver, altri biscottini e questo, questi sono l'url grey, quindi al tè e bergamotto, quindi tè nero e bergamotto, buonissimi. Buonissimi anche questi sono buonissimi e fanno bene. Poi, ok, qui dentro a parte, come vedete, c'è un'altra bevanda super super sigillata e questa è al farro, quindi è una bevanda al farro e vegetale senza zuccheri aggiunti. Vediamo cosa c'è dentro, se troviamo l'italiano da qualche parte. ecco, acqua, farro, olio di semi di girasole, sale marino, agitare prima dell'uso, ok. Isola bio, questo non l'ho mai assaggiato, quindi sono molto molto curiosa e l'ho preso a posto perché mi attirava. Le mule anti-upiver, altri biscottini e questi sono agli agrumi e questi, allora, con il latte non sono il massimo, con il cappuccino, non sono il massimo perché hanno comunque il sapore di agrume e quindi io questi li mangio da soli. Ottimi, buonissimi. Mamma mia, a volte mi piacciono perché sa molto molto degli agli. Poi ho preso il mio mitico e immanciabile, che ho quasi finito, aceto di mele e ho preso la confezione da un litro, ovviamente perché tanto io lo consumo, ovviamente lo bevo come l'acqua, lo uso dappertutto, veramente lo uso tantissimo. E questo è dell'Achilea, aceto di mele, made in Italy, ok. Anche qui non c'è nulla praticamente perché c'è succo di mela e basta. Succo di mela, ok. Si è sidro di mele d'agricoltura e biologica. Buonissimo, io veramente questo lo uso tantissimo, mi piace troppo il sapore. Poi ho preso... Ah, sì, questa cosa mi attirava, anche questa non l'ho mai mangiata. Per cervelli brillanti, quindi siccome io sto studiando e mi serve, è una novità. Praticamente è una miscela aromatica fatta per il latte e questa è fatta, praticamente è il cardamomo latte. C'è scritto, blend di spezie biologiche da bere con il latte, anche vegetale. I cervelli brillanti si garantiscono che la loro giornata inizi con una botta di energia. Il modo migliore è il cardamomo latte, ideale come snack in combinazione con caffè espresso, ha un meraviglioso sapore speziato. Due cucchiaini pieni di cardamomo latte in 250 ml di latte. Scalda e addolcisci come vuoi. Vediamo che cosa contiene. Perché io ovviamente l'ho preso, ma mica l'ho letto. Perché poi il sito è fantastico, perché per ogni prodotto potete entrarci dentro e trovate tutte le informazioni, anche tutti gli ingredienti. Infatti io questo lo uso molto, nel settore appunto degli ingredienti, perché non potendo mangiare troppo riso, troppe uova, sto molto attenta a scegliere biscotti appunto che non li contengano. Ingredienti. Tardamomo, boccioli di rosa, noce moscata, spinaci, lavanda, chiodi di garofano, vaniglia. Cioè, a me questo prodotto mattina tantissimo, cioè dovrebbe essere veramente fantastico. Carino, carino, carino. Infatti io l'ho visto così per caso, perché cercavo appunto le bevande e dico fammelo prendere perché è per me. Altri biscottini, le moulin di Piver 12. Questo è equilibrio alle nocciole. E questi pure sono buonissimi. Non so, danno soddisfazione anche a questi. Sembrano veramente molto, molto biscotti grassi. Uh, qui c'è una cannuccia in giro, probabilmente è di questo prodotto qui, ma sì, infatti c'è anche il buchino per la cannuccia, ma va bene. Allora, poi qui che cosa ci sarà mai? Apriamo. Ovviamente è tutto riciclabile, anche lo scotch che usano è quello di cartone. Ho voluto prendere la senape. Io non l'avevo mai assaggiata. Poi mi è capitata di assaggiarla qualche tempo fa e mi sono innamorata di questo prodotto. Perché è un po' piccante, è un po' amaro, è strano. E quindi ho voluto prendere questa, che è della marca Demeter. Chi? Non lo so. Ingredienti. Semi di senape gialla, acqua, semi di senape nera, aceto di alcol, esiste l'aceto di alcol, sale, sciroppo d'agave, curcuma, coriandolo, finocchio. Mattira tantissimo. Io ovviamente ho già mattira questo prodotto. Buonissima. Cioè, buonissima e nemmeno l'ho assaggiata. Ok. C'è in un caso per queste cose, perché questi sapori nuovi mi piacciono tanto. E poi, ultima cosa che ho preso, è una nuova bevanda al miglio. Mai provata anche questa. E quindi mi incuriosisce, ovviamente. Sempre isola bio. E anche qui credo non ci sia nulla. Acqua, miglio, olio di semi di girasole, sale e marino. Ok. Questa secondo me, per fare gli smoothie, è buona. Perché è buono, al miglio mi dà l'idea di essere qualcosa con un sapore non eccessivamente forte, quindi dovrebbe essere buono. E, ok. La mia spesa è conclusa. Ho preso tantissime cose, velocissime, fantastiche. Io vi consiglio di andare su questo sito, perché veramente è fantastico. Il bel riferito è macrolibrarsi.it Dateci uno sguardo, perché trovate il mondo. ma anche oggetti. Cioè, tantissime cose. Niente, quindi grazie per aver condiviso la mia spesa con me. E noi ci vediamo al prossimo video. E sotto trovate i link per tutti i social, soprattutto Instagram. Quindi seguitemi anche lì. Mettete un pollice in su se vi piace la mia spesa, se non vi piace, se vi fa schifo, se invece la amate, non lo so. Fate quello che volete. E al prossimo video. Ciao. 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 Ciao.